Siamo stati i primi, i pionieri di una nuova era. Era 6 settembre 1995. Abbiamo concepito un sito che fosse un punto di riferimento planetario per la vendita di un composito paniere di derrate e articoli multiformi. Da allora operiamo con imperituro e inalterato spirito di innovazione e oggi siamo arrivati a un illativo concetto di nuovo home page e finalmente la posizione è personalizzabile, è intuitiva, è il mio centro commerciale di fiducia, è immediata, è innovativa Beh, strepitosa questa idea dei fiducia. L'imposto in 3 secondi. Ogni volta che mi logo c'è una sorpresa e poi mi aggiorno automaticamente sui nuovi prodotti. Di sabato quando piove, altro che centro, vi ho amico in chat e via di shopping. Imposti le tue preferenze nei fiducia e ti sembra di essere un centro commerciale? Che è tuo! Se decido che voglio aggiungere qualcosa alla schermata iniziale, basta un clip, vado nei feed e seleziono la nuova categoria di prodotti e sono subito in home page. Oh, bello! Mi permette di vedere immediatamente le novità del settore, tutte le offerte migliori. Trovi già tutto in home, ben visibile. Le foto pure sono belle grandi. Ogni volta che ti locchi, vedi il tuo mondo. L'ho messa fissa quando apro internet. L'ho messa fissa quando ho messo.